salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di divisible benissimo andiamo pure avanti vediamo che succede non vedo l'ora di tornare sui miei passi per poter aprire tutte le varie vie che ci sono state precluse fino adesso c'è da fare un backtracking atomico qua anche se il tuo obiettivo è... wow, questo è grande! halt, nessuno da l'Ashwat village può lasciare oh cavoli soldi, come lieutenant della navarra, ti consiglio di escoltare questo figlio a Vimana forse per interrogazione sì, signor io sono Ashna, figlia di Inder, chief di l'Ashwat village ah beh, oh che cazzo potevamo farcela potevamo farla in... ah no, doveva combattere questa qui vabbè, cercavo di fargli il culo e vediamo un po' come va c'è nessuna? oh cazzo finalmente sei qui non ho capito perché mi hanno portato qui con te ho 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 raccontato che stavo portando a Lord Ravanovar ma non poterla ascoltare mi orecchia magari è perché sei un jerk e nessuno ti piace non mi piace lei fa una buona ora, ora, non vengono un uomo se potessi parlare direttamente con Lord Ravanovar non preoccupi, siamo andati e come ti plani a fare questo? ci deve essere una way out of here ci deve essere un uomo nessuno ha mai escapato questa prison e tu non sei la prima ci sono solo due strada vediamo se è vero oh cazzo interessante vediamo se quindi l'assia non serve un cazzo va bene facciamo così perfetto così 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 e ci siamo che bella coscia e andiamo giù così che bella roba che c'è qua ma ci potevo fare qualcosa oh salve signore interessante che non ci diano più retta per sfondare devo sfondarlo le difese di un nemico colpisci con su e attacco seguito da giù o viceversa interessante ok quindi adesso faccio così l'ho sfondato gli ho riempiti di sfondamenti la miserica non si fa così ok quindi devo aspettare per forza che quindi devo fare così così e poi e poi così c'è miseria che roba mostruosa lamentiamo va che è meglio ancora va che è meglio qui curiamo che è meglio porca miseria che casino ok vai si ma ha preso lo stesso sacco di bot ma che cazzo mi farà a te allora così così e poi così 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 l'ho già massato e non me l'aspettavo ok vediamo un po' come va adesso ma ci può salvare moccidinti se abbiamo va che è meglio non so mai dove salvare cavolo ecco qui oh adesso li possiamo rompere porca miserica eh che cazzo però perché due campane come è possibile che ci siano due campane che strano qui dice che c'è una campana ma per me siano su un atti loro eh vabbè comunque andiamo pure avanti oh ah cosa brutta ragazzi come un ritorno indietro questo è Vimana lord Ravanovar's flying fortress it brings our soldiers wherever they are needed that means Ravanovar is in here he is but you won't get to we'll see about that I'll tear this fortress apart by hand if I have to hmm or burn it we could burn we'll figure that out when the time hmm but first we've got to get back ok dobbiamo trovare dentro proviamoci subito oh spiugiate tanto ok ok perfetto e qui si può tornare dentro adesso possiamo rompere queste cose la cosa è molto interessante così possiamo finalmente tornare indietro e sfondare tutto lo sfondare oh finalmente a quanto pare sei pronta per migliorare la tua vita vieni a trovarmi nel tuo regno interiore insomma come possiamo dire insomma non è proprio il massimo allora entra nel regno va tu vuoi qualcosa o dici solo le persone stronzate saremo come prima sarà sicuramente così non ci sono questo è molto ottimista insomma quella che vuole mandare a fuoco a tutti cosa dice affrontiamo qualcosa dice le stesse cose mi dicevo che palle allora di qua possiamo potenziarci sì perfetto ho fatto qualcosa 3, 4, 5 ho fatto un sacco di potenziamenti continuerò a studiare chissà che hai portato dal tuo regno interiore ce l'ho sempre qui c'è bisogno di me ora sei abbastanza forte per utilizzare anche i servizi di mani grazie mi sento già più forte potrò aumentare la forza quando dovrò è a 20 shanta miseria scusi signor mami sento che io ora sei abbastanza forte per ricevere i miei segnamenti utilizzando il potere dell'inseng posso migliorare le tue capacità difensive mi servono 5 ricevere la miserica ma che palle e insomma e vabbè pazienza troveremo adesso andiamocele via perché tanto devi stare qui e esci qui c'è qualcosa di buono non c'è un casso vero quindi facciamo così 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 la miseria che sciati da panico adesso ci andiamo giù perché tanto si fa un casso che sciugliata da panico andiamo un po' avanti grazie fate un rischio di merda come al solito eccoci qua chi sei te? ooo quindi così è quello che dovremmo fare dicono dicono di scoprire ma se pensano che ho scoperto di di c'è c'è qualcosa che potremmo mi quando avevano la possibilità di 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 come l'Isebedei ooo, questo suona bene nonsensi è una cr... ci stiamo fuori da lì Zebe ma potrebbe essere così grande come ti chiedi lo farò? proprio così? cioè, ovviamente sono ci vediamo ci vediamo ci vediamo ah non posso farlo quindi direi che per il momento non riesci a fare nulla eccoci ho fatto una figlia di merda li faccio tanto uno è più di meno vero? oh non si può andare lì a cedetti oh cazzo fa certamente fa dei saltini proprio ingenui salve lei potrebbe morire un attimo guarda che ti ho preso io allora facciamo così, facciamo così, facciamo così oh ehm facciamo così lenta, lenta lenta ah ho capito scusate allora devo far così poi devo far così e poi devo far così ecco adesso lo giriamo quindi devo far... va devo far così e poi devo far così spacco tutto, lo faccio prima ok facciamo bb vai spacca tutto il bravo 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 fai così che te sei brava ma quanti sono? sono mentati non me ne aspettavo una roba del genere cura cura che è meglio cura cura che cazzo non aspettavo un attico ecco allora facciamo così no allora così 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 e almeno così l'ho sfondato quello lì è l'unico modo se no casino se li curiamo no miserica non possiamo fare niente vediamo un attimo riprendere su 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 e vai e adesso vai adesso però tocca a me eccoci qua oh valla che l'hai sentito stavolta posso farci un cazzo eh vai così ma che cazzo ok perfetto vai ok aspettate un attico adesso adesso tocca a me però eh poca miseria cura grazie cura grazie vai rallenta grazie oh vai quindi così così e così e adesso andiamo di questo valla che porca miserica adesso le botte le hai prese eh ok basta capire dai ce la si fa eh non è non è difficile è molto è molto strategico il sottimento però si fa salva salva partita sta un pochino ho un oddio fate un salto di panic eccolo qua quindi possiamo fare così ma effettivamente io devo andare su o giù voi non lo sapete che non lo so vediamo qua ma che è meglio andiamo ah dobbiamo andare giù interessante interessantissimo quindi io l'ho scavidato non sono tanto sicuro di volerlo scavidare lui eh volevo provare a farlo fatemi vedere ma lo so che c'è una palla però se l'ha messo vuol dire che ci sarà un motivo no? eh che cavolo poi magari lo si deve affrontare eh però è qui perché non affrontarlo eccolo qua beh mi sembra una cosa molto giusta dai proprio e quindi non possiamo farci niente è vero neanche se mi preparo mi paro vi vedere va no penso e proprio credo che dobbiamo andare via eh vabbè patienza almeno adesso lo so scusate via via corriamo corriamo via ah get out there and fight ah 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 interessante non dovrebbe esserci niente e qui c'è il posto oh salve abbiamo oh un ranger c'è s'affa c'è il il gi s'affa 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 You're a fool. Does this man speak for you? Nah, he's just some worthless murderer. We don't... Good. Ravonavar is no kind of man to bring peace. Oh, but you know my name. You're... Yep, I'm Ashna, from Ashwat. I, Zebe, hail from the proud mountain tribes. We who sing the songs of the winds in the mountain. But Ravonavar, you nearly wiped us out. I moved to Lon to resist... Wow, that's almost the same thing. I will have my revenge on him for spilling my people. Funny you should mention it. We are actually on our way to smash this... Smash his face in, you see? I am in your debt, Ashna. And as a protector of Lon, I pledge my bow to your honor and... At least, uh, I... That's great! Let's... Okay. Hey! Again? Sorcery! From one... Uh, it's not really a cage. It's just Ashna's weird brain. This is Bomb. He's in my lantern. You're in her inner realm. Hi! We're here too. Well, metal. Now, if you don't mind, I... I'll show you my best moves, Ashna. The Bedei... The Bedei... Oh! Il veloce tiratore ha messo gli occhi sul tuo bersaglio. Vediamo un po', allora. Con Giu lancia... Lancio nemici. The Bedei può lanciare vari nemici in aria. Beh, questa è una cosa buona. In Giu, invece... Fuoco concettato. Per nemici più grandi, The Bedei infligge maggior numero di danni. E che, insomma, me lo ricordo sicuro, questo. In su, prendi nemici grossi. In giù, li lancia in aria. Va bene, mi sembra una cosa buona, insomma. Ma... La tua squadra è a completo. Scambio personaggi usando selezione squadra. Accedi a qualsiasi momento, da menù. Select. Vediamo un po'. Allora, io toglierei... Per adesso lei, perché non è che mi sembra molto buona. Attacco. Poca PV. Velocità... Cioè, è velocissimo. È il personaggio più veloce che abbiamo. Non ha una gran attacco, perché ha due, effettivamente. Però anche lui, lei ha due, vabbè. Eh, ci voglio. Noi... A livello zero? Beh, allora fa presto salire. Dopo, sì che fa potenza e fa tanti danni. Informazione sui personaggi, abbiamo già letti che penso che siamo a posto. Possiamo anche fare qualcos'altro. Se mi dice la mappa qualcosa. Penso dovremmo salire. O scendere. Uno dei due, non lo so. Vediamo. Oh, l'arco. Oh, l'arco. Ma perché stasciarlo qui e non l'armorio? Beh, mi fa piacere. A me ho preso l'arco. Wow. Ah, ce l'ho io? Tira frecce con RB. Tieni per un TNB per rendere la mira. Che interessante, ma questo a cosa serve? Esattamente. Per fare l'attacco da lontano? Ho rotto io questo qui? No. Vediamo. Scusate. Ok. Devo ancora capire, eh. Lo capirò, vi prometto che lo capirò. Porca miserica. Eh, questo? No, non si capisce. Andiamo su. Lo capirò, lo capirò. Forse lui, a questo punto vi viene da pensare. Lui. Esatto. Ottimo. Bene, proviamo. Tutto facile. Ci dice niente? Abbiamo fatto già tutto e non ci dice un cazzo? Forse manca un po' di pezzi? Beh, è tutto facile. Bene, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare i clip, perché sto inizio di tutto. Vi vedo come al solito lasciare un like, come se vi piace la serie di fammi sapere cosa pensate. Per il saluto, saluto da Shiva. Ciao, ciao.